Con Manuel buongiorno alla conclusione della tappa del terminillo, Manuel raccontaci il finale. Ma niente, eravamo io a Aro e l'Atleta Russo e ci siamo un po' dati battaglia lungo la salita e poi in discesa sinceramente mi è presa paura e ho lasciato una venticinquina di secondi che si poteva nevitare. Io non sono molto portato in discesa, ho preferito non rischiare, poi la nebbia non mi ha aiutato, non riuscivo a vedere a 10 metri e paziente, però il giro è lungo. La mancanza di un uomo come nel Manfredi nel finale si è fatta sentire? Sicuramente sì, perché Andrea è una felina fondamentale, ci siamo un po' dovuti arrangiare, comunque devo ringraziare tutta la squadra perché ho fatto un lavoro veramente eccezionale. E adesso nelle prossime tappe, Dombrovski in maglia, cosa si può prospettare prima del Gavi anche? Ma è già una tappa come domani, può essere riservata a diversi tranelli e diversi agguati, poi penso che fino alla tappa del Gavi il giro vada via regolare. Ok, grazie.